Da anni giacciono nei cassetti del nostro comune 5 autorizzazioni per l'attività di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti, un'opportunità di lavoro che è il momento di mettere a disposizione. Scrivono così in una nota i consiglieri Giuseppe Nucifora, Mariata Ormina, Giovanni Spinella e Sebastiana Fiume. Il gruppo consigliare di minoranza Fiumefreddo Lab ha depositato quindi un'interrogazione urgente per chiedere al sindaco di Fiumefreddo Sebastiano Nucifora che venga emesso il bando per il rilascio di 5 autorizzazioni attualmente a disposizione. Nell'aprile del 2016 l'amministrazione Alosi, con una delibera di giunta, diede l'atto di indirizzo affinché fosse emanato il bando, ma da allora nulla si è mosso, dichiara il consigliere Giuseppe Nucifora. In verità le autorizzazioni erano già disponibili nella precedente amministrazione Nucifora e tutto è rimasto fermo in questi anni. Chiediamo quindi che oggi vengano finalmente messe a disposizione di quanti intendono esercitare tale professione attraverso un bando di evidenza pubblica. Quella del servizio noleggio con conducente, conclude il consigliere, è una professione che sta determinando molte richieste di lavoro grazie ai flussi turistici in crescita e a un mutamento delle tendenze che il nostro territorio ionico ha vissuto negli ultimi due anni. Una grande possibilità da mettere subito in campo in un periodo di crisi economica ed occupazionale.